Partito numero 24, il club sportivo Urania, a numero 37, centro venero, Lago Lippusiano, Andrea Di Luca, Cornelio Diego, Conti Luca, Ricciardi Federico, Agostino Risa, Antimone. Partito numero 35, Canettieri Voltri, partito anche il numero 36, Canettieri Torchio Cereggio. Partito anche il numero 37, centro venero, Lago Lippusiano. Che bravi. Partito numero 36, Canettieri Voltri, Poli, Brahan, Bardi, Oiarzanzi. Partito numero 36, Canettieri Torchio Cereggio. Vai Pugiano! Vai Pugiano! Andiamo! Guarda Pugliano. 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 Grazie a tutti